Parliamo ora di Papa Francesco e del Giubileo che si è chiuso ufficialmente domenica. Lo facciamo con un ospite, Piero Schiavazzi, docente di geopolitica vaticana e Huffington Post. Buonasera e bentrovato. A voi. Dunque, io ho letto un suo pezzo proprio sull'Huffington Post in cui ha definito il Giubileo della Misericordia, il Giubileo di Papa Francesco, il Giubileo della globalizzazione. Perché? È il primo Giubileo antiromano della storia, che questo è un paradosso in termini, soprattutto detto dagli schermi e sugli schermi di una televisione romana, perché il Giubileo nasce nel 1300 come un'affermazione della romanità nel momento in cui si formano gli stati nazionali. Chi avrebbe mai pensato invece che un giorno il Giubileo potesse essere delocalizzato esponenzialmente in 10.000 porte sante che si aprono come altettante valvole, uscita di sicurezza nei punti focali della Terza Guerra Mondiale a pezzi. Giubileo mondiale a pezzi come antitesi e antidoto alla Terza Guerra Mondiale a pezzi. Questa è stata la invenzione del resto. 20 milioni di Romei in tempo di terrorismo è un grande successo, ma la stragrande maggioranza sono italiani. Allora in tempo di globalizzazione o tu raggiungi quota 200-300 milioni e quindi ad impossibilia, non è verosimile, oppure non sei più il portatore di un'esperienza universale. L'unico modo per conservare la universalità al Giubileo in tempi di globalizzazione, che è molto di più dell'universalità e dell'universale, era quello di dislocarlo. È come se la bolla, sa che il documento di indizionare di un Giubileo si chiama bolla, è come se fosse scoppiata in tante bollicine, fantasiose anche, imprevedibili. Quindi neanche il Papa conosce il novero delle porte sante che si sono aperte, soltanto a Bergamo, che è la città che ne ha di più ufficiali, sono 28 le porte della misericordia, soltanto a Bergamo. E poi quest'altra invenzione geopolitica. I Papi viaggiavano poco durante i Giubilei, stavano a Roma perché ricevano la gente. Questo è un Papa invece che durante l'anno del Giubileo, anche il jolly, quella che era la finale della Coppa della Champions in casa, lui ha scelto di giocarla all'estero sul campo più difficile del rivale, rivale Wojtyla, quindi un campo impossibile a Cracovia. Ed ha aperto la Porta Santa nel cuore nero dell'Africa nera, dove si ammazzano a colpi di macete cristiani e musulmani, in un contesto rovesciato dove sono i cristiani maggioritari. E lui è andato quasi a fare scudo fisicamente nel quartiere musulmano, interdetto anche alle forze di polizia di Kuduku, dove ha visitato la moschea all'indomai dell'apertura della Porta Santa a Bangui. E l'ha definita capitale mondiale, capitale spirituale mondiale. A quel punto il Giubileo era come la giacca. Ricordate quando Armani ha fatto la giacca, inventato la giacca destrutturata? Ecco, il Giubileo di Papa Francesco è stato una giacca senza imbottiture, che all'inizio, quando Armani la teorizzò, sembrava un'idea stravolgente, invece avvolge poi a indossarla. Ecco, va portato in maniera diversa per valutarne le conseguenze. E' stata plasmata anche durante l'anno del Giubileo. E' un Giubileo destrutturato, è una giacca destrutturata, poche cusciture dottrinali, pochissime, riduce al minimo le cusciture dottrinali, ed è stata un'esperienza avvolgente. L'unico modo di far sopravvivere nel terzo millennio, un'esperienza come quella dei Giubilei, che o ti porta 300-400 milioni di persone a Roma, oppure non ha senso, perché non è rappresentativa di un universo mondo che si è allargato a villaggio globale, che è tutta altra cosa. Allora possiamo dunque dire che con la chiusura della Porta Santa si è chiusa un'era e se ne è aperta un'altra? E' quello che io ho sostenuto, siamo entrati in un'era nuova della storia della Chiesa, che è l'era della globalizzazione. Del resto, se lei pensa che il termine globalizzazione entra nel Magistero soltanto nel 2009 con l'enciclica sociale di Benedetto XVI. Prima c'era il concetto, ma non c'era il termine. Oggi la Chiesa è investita dalla globalizzazione e ha dovuto adeguare, questo è stato Bergoglio, il modernizzatore, ha dovuto adeguare questo strumento straordinario che aveva del Giubileo, ma che non avrebbe avuto senso a sopravvivere se non se ne fossero modificate, cambiate le modalità d'uso. Ecco, questa è la visione di Bergoglio, chiara. Il popolo sembra averla assimilata poi durante questo Giubileo, però ci viene da chiederci la Chiesa a che punto è? Mi tiene sia avanti, sia al passo di Bergoglio o ci vuole ancora un po'? Sì, ho capito dove lei vuole andare. Lei mi sta portando a via della conciliazione. Esattamente. Tutti i romani hanno visto in via della conciliazione questo percorso, questo camminamento protetto che va da Castel Sant'Angelo alla Porta Santa. Ora, anche i meno informati hanno sentito almeno una volta in questi tre anni, ripetere, tre anni e mezzo ormai, ripetere a Papa Francesco che la Chiesa deve uscire da se stessa, questo è stato il suo slogan, il suo motto più famoso, anche al rischio di essere una Chiesa incidentata, di sbandare, di subire un incidente. Come quando vai fuori strada, come quando sei un pedone che non cammina sul marciapiede. Incidentato non è mio, come termine è suo. Voglio una Chiesa che esca da se stessa e la preferisco incidentata. Ovviamente lui si riferisce all'incidente dottrinale, al rischio. E allora, con un Papa che teorizza, una Chiesa che esce da se stessa in ordine sparso, non rompete le righe, tu mi vai invece a incanalare, indottrinare, reggimentare la gente come si faceva negli anni 50 ai tempi di Pio XII, forse di Pio XIII se dovesse venire davvero come nel presagio delle serie, delle fiction televisive, mi vai a irreggimentare. Ecco perché i pellegrini, come se avessero risposto a un intuito, a un'intuizione, hanno disertato quel camminamento. Noi abbiamo avuto 20 milioni di persone che hanno attraversato, statistiche alla mano, detector alla mano, quindi è un dato matematico, con la Porta Santa, molte, infinitamente di meno, che invece hanno accettato di entrare in quel percorso protetto che visualizzava nella topografia, resterà per i posteri, a indicare il ritardo di una gerarchia, di una Chiesa e istituzione che è il ritardo sul popolo. Del resto, il Papa, nella magna carta del suo pontificato, che è l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, dice che il popolo, spesso ha il fiuto, intuisce le nuove strade molto prima dei suoi pastori, che vanno dietro, che vanno a rimorchio. Ecco, ha fatto riferimento, a una fiction televisiva di successo che si è conclusa veramente da poco. Si può definire uno Jude Law della situazione, in questo caso Bergoglio, esageriamo, comunque uno young pop, un Papa giovane anche per idee, per certi versi, rivoluzionari, comunque. Guardi, hanno in comune il giovane vecchio Papa, il vecchio Papa giovane, perché uno no, Bergoglio è il vecchio Papa giovane di idee, Jude Law è il giovane Papa di idee vecchie, quindi il giovane vecchio Papa e il vecchio Papa giovane, che sono agli antipodi. Jude Law, lo starzista, ma ha inventato un antipapa. Un tempo l'antipapa lo faceva l'imperatore. Oggi l'antipapa lo fanno i media. risponde anche a un'esigenza di mercato, cioè tutta una parte che è rimasta di opinione pubblica, un cristianesimo identitario, che va da Budapest di Orban, che va a Varzavia di Duda e adesso a Washington, con i tiparti, non certo con Trump, che non mi pare molto interessata la religione, ma con i tiparti che... che è orfano di un Papa, che non si riconosce in Jorge Mario Bergoglio. È orfano di un Papa e ha trovato questa icona televisiva, ma noi sappiamo che spesso la narrazione, in tempi di villaggio globale, di civiltà mediatica, la narrazione condizione, influenza, prepara il reale. C'è una parte di mondo spirituale da non sottovalutare, che non si riconosce in Bergoglio e che ha trovato il suo Papa, che è un Papa indubbiamente fascinoso, che è un Papa che non è anticapitalista, è un Papa che ritiene musica per le orecchie di Trump, è un Papa che ritiene... Bergoglio vuole cambiare il mondo e cambiare il capitalismo che per lui è il diavolo, il demonio. C'è un Papa che dice abbiamo perso tempo a occuparci del sociale, torniamo a una Chiesa verticale che pensa solo a Dio e la gente tornerà a noi. Quindi sono due pedagogie opposte. Certamente questa seconda è molto più fungibile, non fosse altro perché è un Papa fascinoso, che se tu leggi le sue idee, se tu leggi il copione sulla carta, non ti convince, poi lo vedi sullo schermo e ti avvince. Qui c'è un salto. Se uno legge le tesi di Giudlo sulla carta, se legge il copione dici mamma mia, questo non lo vedrà nessuno, audience zero con queste idee reazionarie. Poi è un botto perché affascina, funziona in video. Queste sono le magie dello schermo, io non le sottovaluterei. Perché quando un audience è vincente, quando c'è il battesimo dell'audience e la crisima dello scher, che è una confermazione, quando ci sono questi due sacramenti moderni, probabilmente la fiction porta in superficie delle sensazioni profonde che l'opinione pubblica avverte. D'altronde, i pontificati procedono in maniera pendolare. Ci sono delle chiese, il suo discorso finale del Giubileo è stato voglio una chiesa di pianura, voglio una chiesa di pianura che si metta a livello della gente. Quando fai questa operazione e sei troppo orizzontale, poi trascuri la proiezione verticale e qualcun altro inevitabilmente coprirà con la sua offerta, in questo caso televisiva, quella quota di mercato spirituale, se posso esprimermi in questi termini. E torniamo al Giubileo, mi vengono in mente le parole di Monsignor Fisichella, è stata davvero un'occasione persa per Roma, lui nei ringraziamenti sostanzialmente ha ringraziato tutti, si è dimenticato volutamente la sindaca Virginia Raggi. Cosa ne pensi? Diciamo, il Giubileo è un sole che si accende e in questo caso è indubbio che gli sono mancati dei raggi a questo sole che si è acceso. Sono mancati dei raggi. Diciamo che qualcuno in precedenza aveva già marinato, Ignazio Marina aveva già marinato i suoi doveri preparatori, la raggi viene eletta a Giubileo già a metà quindi obiettivamente è parsa e indubbiamente distratta è parsa e indubbiamente distratta ha avuto altri pensieri ma è sembrata all'opinione pubblica obiettivamente distratta dall'evento rispetto all'evento giubilare che si stava svolgendo sotto i cieli di Roma. La preparazione è mancata già con Marino. non dimentichiamo che Ignazio Marino è il primo sindaco defenestrato nella storia da un papa. Quelle famose parole nell'aereo insomma risuonano ancora. Torna dagli Stati Uniti io non l'ho invitato da quel momento è scattato il countdown per il PD ha capito che in quel momento bisognava defenestrare dopo che Dal Blò l'aveva fatto volare via Francesco con quell'entrata a gamba tesa che è stata la prima su un politico dall'aereo poi dopo dopo il sindaco di Roma il papa dall'urbe all'orbe se l'è presa con l'imperatore nel febbraio successivo quando dall'aereo ha detto non votate entrando a gamba tesa in questo caso nelle primarie americane però a differenza di Marino ha trovato un Trump che ha cavalcato la polemica saltandoci come un toro d'arodeo d'altronde è un americano ci ha saltato e ha risposto al papa dicendo no è lui che è al servizio dei messicani l'ha cavalcata a quanto pare i risultati elettorali delle consultazioni delle presidenziali americane gli hanno dato ragione cioè lui sapeva di pescare in tutti i cristiani nel corn cotton belt cioè tutto il sud degli Stati Uniti che va da coast to coast dove dominano le chiese evangeliche fondamentaliste che rispondono esattamente a quel modello corrispondono a quel modello a quell'attesa di papa che lo incarna alla perfezione cioè un papa che come un predicatore americano ti parla solo della dimensione verticale non entra nella questione sociale le chiese evangeliche americane sono del tutto indifferenti al fatto che i poveri in America non abbiano l'assistenza sanitaria se ne è occupato Obama in questo senso la Obama Care e la Bergoglio Care sono state molto molto simili cos'è la Bergoglio Care se non un tentativo di dare sacramenti salva vita la comunione divorziate a categorie che finora ne erano escluse cosa è stata l'Obama Care se non il tentativo di dare farmaci salva vita sacramenti e farmaci salva vita c'è questo parallelo a categorie escluse due tentativi di inclusione delle rispettive basi sociali quella della Chiesa e quella degli Stati Uniti alle quali ha reagito non non i tycoon non i ricchi non la classe dei potenti questa è la narrazione è una favola poi i voti i voti contro Obama sono arrivate dal popolo delle case di legno delle case basse dall'orizzonte piatto di True Detective dall'America profonda allo stesso modo in cui a Bergoglio si è ribellata una parte del popolo delle parrocchie che finora è stata in regola con il procetto cioè la classe media della Chiesa medio-bassa questa narrazione per cui è soltanto sono soltanto i boiardi del concistore i cardinali a ribellarsi allo zar Bergoglio è anche una narrazione inattendibile perché poi non trova il conforto statistico dei numeri venendo a Roma è stata indubbiamente una occasione perduta per il Campidoglio perché vede il Giubileo il Giubileo è l'Olimpiade della Chiesa e Roma beneficia di quest'Olimpiade a costo zero arriva ogni 25 anni prima ogni 150 25 adesso con i Giubilei straordinari arrivata dopo 16 anni appena questa Olimpiade straordinaria che ha portato 20 milioni in tempi di terrorismo ricordiamoci che il Giubileo comincia l'8 dicembre Bataclan 20 giorni prima 13 novembre 2015 Bataclan quindi il terrore per la prima volta in Europa in una dimensione di massa e nonostante questo il Giubileo porta 20 milioni di persone e quando ti ricapita per cui questa Olimpiade che è arrivata senza bisogno di presentare la candidatura la domanda di fare progetti di fare spese di impegnarsi di chiedere i soldi in presidi in banca in questo senso se ci pensassimo e riflettessimo a fondo è una grande occasione pensate che è dal 2000 dall'altro Giubileo che non si fa almeno una cosa il sottopasso di Castel Sant'Angelo il sottopasso di Castel Sant'Angelo l'hanno promesso per il 1998 poi il 99 poi Rutelli disse nel 2000 è sicuro ci sarà almeno quello il sottopasso e noi siamo ancora ecco questa è la metafora della politica la politica romana cambiano i sindaci chiunque sia il sindaco in Campidoglio la politica romana è rimasta culturalmente nel sottopasso rispetto a una città che invece è biblicamente la città sopra il monte che dà visibilità universale all'Italia non ci illudiamo perché tanti capi di state e di governo vengono così frequentemente perché vengono così frequentemente per visitare il Quirinale e il Palazzo Chigi ecco questo la devo salutare dobbiamo chiudere grazie a Piero Schiavazzi docenti geopolitica Vaticano grazie arrivederci grazie a Piero Schiavazzi grazie a Piero Schiavazzi